per chi deve scendere next stop per mazza ciao a tutti eccoci a vernazza uno dei bellissimi paesi delle cinque terre hi everybody here we are in vernazza one of the beautiful towns of the cinque terre or five lands e e e e e e e Come arrivare a Vernazza? Da Vernazza i paesi raggiungibili in battello sono Monte Rosso da una parte e Manarola dall'altra. Prima di Manarola ci sarebbe Corniglia che però non ha accesso diretto al mare e quindi non può essere raggiunta in battello. Monte Rosso da una parte e Manarola dall'altra parte. Corniglia è prima di Manarola che però non ha accesso diretto al mare e quindi non può essere raggiunta in battello. Per arrivare alla stazione dei treni di Vernazza ti basta ripercorrere a piedi la via principale che dalla piazza affacciata sul mare attraversa questa fantastica località. Infatti la stazione dei treni si trova all'interno del paese. Per arrivare alla stazione dei treni di Vernazza ti basta riferire la stazione principale che si trova questa fantastica città dalla piazza che si trova all'interno del mare. La stazione dei treni si trova all'interno. Non è il prego Vernazza a scallo di Vernazza per chi deve scendere. Next stop Vernazza. La stazione dei treni si trova all'interno del mare. La stazione dei treni si trova all'interno del mare. La parte più bella e caratteristica di Vernazza è sicuramente la piazzetta che si affaccia direttamente sulla spiaggia. La più bella e caratteristica di Vernazza è sicuramente la piazzetta che si trova all'interno del mare. non stupisce che sia stata proprio questa piazza? Non è sorprendente che questa piazza ha inspirato la piazzetta del paese di Porto Rosso nel film Disney Luca. La stazione dei treni si trova all'interno del mare. La stazione dei treni si trova all'interno del mare. La stazione dei treni si trova all'interno del mare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.